Musica Quando si parla di sostenibilità si usa dire che è la terza dimensione degli investimenti. Cosa significa? Significa che nel mondo degli investimenti si è incominciato a guardare in primis, tanti anni fa, il rendimento e solamente il rendimento. Poi ci si è accorti e si è capito che quello che è importante è guardare il rendimento aggiustato per il rischio, quindi quante unità di rendimento ottengo per il rischio che corro. Negli ultimi anni si è capito e si è realizzato che lo sviluppo è guardare anche una terza dimensione, oltre al rendimento e oltre al rischio, anche la componente sociale e ambientale, perché queste si integrano nella gestione del portafoglio non solo appunto negli aspetti di rischiosità, ma anche negli aspetti di rendimento e di extra rendimento dal nostro punto di vista. Pensiamo per esempio a quelli che sono i rischi legati al cambiamento climatico, credo che oggi gestire un portafoglio, per esempio azionario globale o obbligazionario globale, senza tenere conto di questi rischi sia oggettivamente una cosa che non funziona. Allo stesso tempo anche guardiamo la componente sociale, pensate a quelle aziende che non curano per esempio il rapporto con i dipendenti, piuttosto che il rapporto con tutti gli stakeholder coinvolti, saranno penalizzate da un punto di vista di prezzo, quindi sono dinamiche che vanno prese in considerazione. Dal punto di vista dell'extra rendimento, se guardiamo per esempio cosa hanno fatto gli indici principali azionari globali l'anno scorso, nel 2017, direi che praticamente guardando settori ma anche completamente diversificati, gli indici sostenibili hanno performato sempre meglio degli indici tradizionali. Quindi direi che questa terza dimensione alla fine ha a che fare sia con il rischio ma anche con il rendimento. Quando si parla di impact investing si fa riferimento a una forma di investimento, quindi con un obiettivo di ritorno, di rendimento per chi fa l'investimento, è così? Assolutamente, la differenza direi tra gli investimenti sostenibili e gli investimenti ad impatto sociale e ambientale è essenzialmente l'intenzionalità di quello che è l'impatto che uno vuole generare, cioè le aziende sostenibili sono quelle che ben si comportano ma non hanno nella loro missione di risolvere un problema sociale o ambientale, mentre gli investimenti ad impatto sono proprio quelli che puntano a risolvere un problema sociale e ambientale ma anche facendo un rendimento, ovviamente. Pensiamo ad un esempio su tutti, quello del cibo organico, se andiamo al supermercato oggi vediamo che la dimensione degli scaffali dove viene esposto e venduto il cibo organico è cresciuta di 10, 20, 30 volte rispetto a quello che erano qualche anno fa. Gli investimenti nelle imprese che fanno organic food sono quelli che hanno reso meglio negli ultimi anni nel settore alimentare perché sono cresciuti in doppia cifra. Questo è solo un esempio, possiamo parlare di clima, possiamo parlare di salute, cure per le malattie più diffuse e le principali cause di morte, possiamo parlare di sicurezza e così via, tutti i temi che fanno parte della nostra quotidianità. Grazie.